Buongiorno a tutti, che continuano le salate di Officina 19. Cos'è Officina 19? È un gruppo di persone che hanno pensato di affrontare dei temi di interesse pubblico, inteso per più vederlo a questo. Il primo incontro Renzo ha portato l'argomento cultura e musica, oggi Alessandro ci parlerà di associazione volontariato, poi ci sarò io con lo sport, a seguire Graziano ci porterà le attività produttive e il commercio e finirà Francesco con il territorio e l'ambiente. Abbiamo la fortuna di essere supportati da gruppi di lavoro che ci aiutano e ci permettono di raccogliere materiale, acquisire informazioni, avere anche foto, storia e specialmente parlare con le persone. L'intento di queste serate è far conoscere, mettere in evidenza, sensibilizzare ed eventualmente fare delle proposte per valorizzare la nostra realtà. Vi dico buon ascolto e lascio la parola ad Alessandro. Grazie.